buongiorno buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad una signora serba che mi dice dottore ma io sono conosco l'ipnosi volevo capire se un'altra forma di induzione conosco tante induzioni significa il modo di far entrare in trance una persona bla 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 voglio capire se le conosce altre induzioni e compagnia bella bene io risposto così testualmente spero che sia anche di aiuto a te che magari hai letto oppure sei un ipnotista o sei appassionato di ipnosi a me delle induzioni tradotto non me può fregare de meno adesso penserà questo è pazzo che dice non mi interessano anche se io utilizzo una due dieci cento mille induzioni significa nulla significano nulla zero perché significano nulla perché a me interessano i fatti risultati io sono con un seguace di santo maso se non vedo se non tocco non credo come ho raccontato mille volte sono partito da ipnotista autodidatta leggendo più di duemila libri antichi nel 1600 7 sull'ipnosi in tutti i suoi vari nomi declinata nei suoi vari nomi che ha avuto nei secoli e ho applicato un po tutto di più finché non sono arrivato ad l'ipnosi vera e professionale di los angeles baby rils e la dottoressa rena brunini e del professor dottor migrangel garai quindi immagina anche tutti i libri moderni che si rifanno al passato o meno che parlano di induzioni mille tecniche mille modi di ipnotizzare mille modi di portare in trance una persona io ho usato le tecniche tipo dello sguardo degli occhi delle mani e che più ne ha più ne metta però quando mi sono quando notavo nei mille guru che io ho frequentato e mille libri che ho letto che stringi 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 si parlava soltanto della superficie o ti facevano accendere la macchina ti davano le cavi dove stanno ti davano le cavi della macchina ti davano le cavi della macchina ok ma poi ti lasciavano lì al tuo destino non sapevi che strada prendere bene se permetti non ero soddisfatto non contento da dopo essere stato autodidatto fatto corsi internazionali di ipnosi vera e professionale neanche lì sono rimasto soddisfatto perché perché non risolvevano i miei problemi non risolvevano i problemi non entravano nel merito non entravano parlavano di induzioni l'induzione x l'induzione y l'induzione z non mi interessano a me interessa cosa dire cosa fare per ogni specifico problema e quando nel 2008 incontrai la dottoressa rina brunini come una cometa di allei all'orizzonte a los angeles a beverly hills a più di 11 mila chilometri di distanza salvando mio padre col piede un ictus a cui la medicina tradizionale non dava speranze non di vita ma speranze di e neanche di morte ma speranze di uscirse dall'ictus cerebrale dalla parale se l'aveva colpito alla sua parte destra del corpo perché perché non c'era e non c'è nessuna soluzione tranne dare del liquido anticoagulante ma e mio padre stava nel letto da più di due anni quasi quasi due anni diciamo con piagli di decubito in tutto il corpo spessi un'email tutte le lingue in tutto il mondo la dottoressa rina brunini mi rispose e da lì è nato il metodo dcs quelle sono le radici ragazzi e io ho esclamato wow wow in 30 minuti mentre girava con il suo cucchiaino il tè o il latte non so cosa bevesse nella sua tazza los angeles su skype con un computer ciofeca una connessione ciofeca 30 minuti mio padre non parlava non ascoltava non vedeva un peso un allarmo un vegetale di scalo scoccata delle dita disse rocco alzali e cammina mio padre si alza e cammina ed io veramente come come forse gli indiani d'america videro colombo con le sue caravelle con le sue armature scintillanti quando pose piede sulla spiaggia della del nuovo mondo bene per cui riassumendo indurre la trans non significa nulla se tu non ottieni i risultati ok a me interessano i fatti i risultati e tutto il resto lo lascio agli altri fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cesta del dottor Claudio Saracino e faccio il condivido con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita se vuoi mandami i tuoi suggerimenti pensieri scrivimi anche la più banale dei commenti così io possa sviscerare i tuoi dubbi e spiegarti come stanno veramente le cose e non credere ai mister no oppure ai guru bla bla e poi seguimi per favore anche sui altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cesta del dottor Claudio Saracino un bacio e un abbraccio e alla prossima ciao